...dellecito, una novicea affogata nei guai e perciò a maglie fitte nel tentativo, vano in verità, di contenere l'irruenza dei Granata, i quali annaspano un tantino prima di spezzare l'equilibrio, quando ormai la prima frazione di gioco andava ad esaurirsi. Quarantunesimo, Chico dalla fascia a destra, il cross è una delizia per la testa di Manga, buon donno si protende in vano. 1-0 è partita praticamente chiusa, anche perché risulta vincente la prima giocata Granata in avvio di ripresa, ancora Chico, ancora un cross, Amato ci arriva in scivolata e firma il raddoppio, poi a Cireale alla grande e sagra delle occasioni mancate. La novicea è greve e lenta, per Giuffrita insomma una giornata di cassa integrazione. 2-0, a Bagheria Paternò batte Bagheria 3-1, Ennagri Gento Favara 2-1, Gangi Comiso 2-0, Partini Caudacea 36, Agrigento Favara 35, Scicli 33, Comiso 31, Marsano...